E quindi stiamo qui con Laura Giuliani, che è la portiera del Milan e anche della Nazionale. Sono veramente contenta di essere qui con te. Tu saprai meglio di nessuno che per inseguire un sogno hai sempre bisogno anche di persone che ti spingano a inseguire quel sogno e a darti quell'opportunità. Chi è stata la persona che ti ha proprio aiutata, che ti ha detto vai, insegui questo sogno? Ne ho avute tante, ho avuto tantissime persone che mi hanno aiutata. Prima di tutto i miei genitori, ho avuto la fortuna di avere una famiglia che non mi ha mai dato limiti, che non mi ha mai detto che non potevo fare qualcosa, che non ha mai pensato al calcio come uno sport maschile, ma mi ha sempre detto se ti piace, che è la tua passione e hai questo entusiasmo nel giocare con la palla, vai, fallo. E mi hanno sempre dato tutto per darmi la possibilità almeno di inseguirlo quel sogno. Questo mi ha dato anche la spinta per ricordarmi di tutti i sacrifici che hanno fatto. Quindi spesso nei momenti di difficoltà mi ricordavo dei chilometri che avevano fatto i miei genitori per portarmi al campo, delle parole che mi diceva mamma quando magari andava male qualcosa, e dicevo devo dare un senso a quello che loro hanno fatto per me. E quindi per me è diventata una motivazione, una fonte di ispirazione. Quindi dicevo io non posso mollare perché lo devo fare anche per loro. E quindi fino a quando ho iniziato a camminare con i miei piedi, con le mie gambe, e ho avuto la possibilità di ricambiare tutto quello che loro hanno fatto per me. Poi una volta che sono uscita di casa ho avuto la fortuna di avere sempre il mio ragazzo al mio fianco. Mi ha seguita per cinque anni in Germania, stavamo insieme da pochissimo, ha deciso di venire via con me. E oltretutto faceva anche lui il portiere, quindi mi riusciva a dare una visione molto concreta, molto oggettiva di quello che io stavo facendo, di quello che dovevo migliorare. E grazie a lui ho sempre avuto una spalla prima di tutto, quindi un ragazzo, un amico, ma anche un mental coach. Poi fortunatamente anche magari dal punto di vista tecnico un aiuto che mi sono portata dietro. In quale momento te ne sei accorta che veramente volevi fare la calciatrice, che volevi dedicarti al calcio? Come è stato? Era il mio primo raduno in under 17. Quindi il mio primo raduno in nazionale, io andavo a scuola e a un certo punto mi sono trovata catapultata in questa realtà in cui non c'era la scuola. Da una parte era una cosa buona, dall'altra non tanto. Però mi svegliavo, colazione, allenamento, pranzo, allenamento, cena, riposo. Sveglia, colazione, allenamento, pranzo, allenamento. Tutte le mie giornate giravano intorno all'allenamento. E per me era il parco giochi, sembrava di essere nel paese dei balocchi. Ero diventata Pinocchio, bellissimo, bellissimo, bello, bello. Infatti dicevo, io voglio svegliarmi tutti i giorni e andare al campo. Voglio svegliarmi tutti i giorni e rincorrere il pallone. Rincorrere, io no, aspetta, io non è che corra più di tanto. Però, e voglio giocare con la palla, meglio, dai, mettiamola così. Quindi, in quel momento lì ho detto, io voglio fare la calciatrice. Che dentro di me l'ho sempre saputo. Però poi viverlo giornalmente mi ha dato la carica e mi sono accorta che mi piaceva veramente tanto. E quindi basta, da lì ho iniziato e non mi sono poi più fermata. Siccome oggi è un giorno anche per le ragazze e i ragazzi, siamo qui per questo. Se avete qualsiasi domanda, la potete fare anche adesso. O se vi viene in mente dopo, alzate la mano e la potete fare, ok? Quindi, se c'è qualcuno che vuole fare una domanda, no? Ma io non vedo nemmeno. Ah, lei, ok. Prima stavi nella Juventus a fare il portiere. Racconta un po' il cambio, il cambio di squadra. Sì, 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 sì. Sono stata all'inizio, sono stata cinque anni in Germania. Poi sono tornata in Italia e sono andata alla Juventus. Ho avuto la fortuna di fare quattro anni bellissimi, in cui mi sono ritrovata in un ambiente molto bello, professionale, con delle strutture importanti. Ho avuto un'allenatrice bravissima, che era Rita, che mi ha dato la possibilità di crescere sotto tanti punti di vista. Quando diventi grande, a un certo punto, dopo tanto tempo, hai bisogno di rivedere un attimo quelli che sono i tuoi obiettivi. Ogni persona è fatta a modo diverso, non è fatta a suo modo. Io, personalmente, ho sempre bisogno di mettermi davanti a delle nuove sfide, di avere degli obiettivi nuovi per trovare delle motivazioni. Perché spesso automotivarsi non è facile. E quindi, per farlo, devi cambiare ambiente. No? Devi cambiare. Pensa un po' te quando vai a scuola o quando fai qualcosa di nuovo. Quando c'è qualcosa di nuovo, che cosa ti succede? Che? Sei un po' agitata, no? Quindi non vedi l'ora che inizi, sei entusiasmata, non vedi l'ora, dici, oh mio Dio, che bello! E quindi ritrovi un entusiasmo molto diverso rispetto a quello che avevi prima. I grandi lo chiamano zona di comfort. Sono tante belle parole inglesi, no? Dici, wow, ti riempi la bocca. Poi, in realtà, non è altro che semplicemente il cercare degli obiettivi nuovi, degli obiettivi diversi. Quindi il voler fare qualcosa di nuovo. E io mi sono accorta a un certo punto che per crescere avevo bisogno di cambiare. E a volte hai un po' di paura anche, no? Con questi cambiamenti. Non è sempre così facile? Non è facile. Più che altro perché più vai avanti con l'età, più poi diventa anche difficile cambiare il proprio modo di giocare, il proprio modo di essere. Un'altra domanda? Qual è stata la persona che ti ha spinto a giocare a calcio? O che ti ha trasmesso la passione? In realtà credo di averla sempre avuta, la passione per il calcio. Poi, io, quando ero piccolina, amavo giocare con i miei compagni maschi. e mi dicevano sempre tu sei una ragazza, non puoi giocare a calcio con noi. Sai cosa facevo? Prendevo il pallone, lo chiude, perché io giocavo all'oratorio, quindi sapevo benissimo dove stavano i palloni, prendevo il pallone, lo portavo in sacrestia e chiudevo la porta a chiave. Brava. Perché almeno dicevo se non gioco con voi la chiave ce l'ho io, non potete giocare. Non gioca nessuno. Quindi alla fine li costringevo a giocare a calcio con me. E quindi da lì, diciamo che l'ho presa un po' come una questione personale. Nella mia testa ho sempre detto vedrai che io arrivo dove tu non arrivi, quindi io da ragazza magari riuscirò ad arrivare alla Juventus, al Milan, a tutte queste squadre che allora non c'erano. Voi oggi avete la fortuna di portare uno stemma sulla maglia, comunque di una squadra, di un club importante che si chiami Juventus, Milan, Torino, Inter. Sono squadre molto conosciute che vi danno tutto per inseguire il vostro sogno. Ai tempi noi non avevamo questa fortuna. E quindi ce la siamo dovuta costruire in qualche modo, no? E quindi diciamo che la persona che mi ha aiutata, fra virgolette, a coltivare questa passione sono stati forse i miei compagni, i miei compagni di gioco. Un'altra domanda? No? Ah sì, qua. Quali difficoltà hai percorso in questo percorso? Ne ho trovate tante, ma forse ci ho pensato più a posteriori che quando le stavo vivendo. La difficoltà più grande forse risale al periodo scolastico, quando dovevo fare scuola, calcio, calcio-scuola. Più che altro perché, soprattutto in quinta superiore, non essendo professioniste, avevamo delle deleghe da parte della federazione che mandava la convocazione nazionale, per esempio, e ti dava la possibilità di non contare quei dieci giorni di raduno come assenza. Questa da una parte era una cosa buona, però dall'altra parte comunque perdevi tanti giorni di scuola e quei giorni di scuola nessuno te li ridava indietro, non c'era una prof di sostegno che comunque ti seguiva, quindi dovevi fare tutto da sola. E spesso in quei dieci giorni, soprattutto in quinta, verso la fine dell'anno, c'erano tutte le prove di esame. Il fatto comunque di fare anche tanti chilometri per andare al campo, non riuscire magari sempre a studiare a orari normali diventava difficile a livello personale, comunque a livello mentale e dovevi mettere da parte magari tante cose che potevano essere, per esempio, gli amici, l'uscita il sabato sera, piuttosto che la parte magari sociale. Quindi io personalmente mi concentravo molto sul calcio e sulla scuola, perché per me erano cose importanti, le più importanti in quel momento, tralasciando magari altre cose che potevano essere poi la parte sociale. E i sacrifici più grandi sono stati quelli. Poi per il resto non cambierei niente di quello che ho fatto. e quindi credo sia stato solo un po' quello. È molto difficile anche abbinare gli studi al calcio. Ad esempio, negli Stati Uniti ci sono dei programmi già stabiliti in cui se non arrivi a un certo livello accademico non hai proprio la possibilità di poter giocare. Pensi che questo sarebbe un modello a seguire anche qui in Italia e in altri paesi? Assolutamente sì. Secondo me è molto importante portare avanti entrambe le cose. Più che altro perché non sai mai che cosa ti riserva la carriera, che cosa ti riserva comunque la vita in generale. Quindi secondo me avere un piano B è sempre veramente importante anche per ovviare poi a delle difficoltà che ti si possono presentare. E poi la cultura è importante perché ti insegna comunque ti insegna a stare all'interno della società. Quindi lo studio in generale io parlo per me io mi sono laureata in scienze motorie e adesso sto facendo un master e probabilmente in futuro continuerò comunque a studiare ed approfondire quello che è il tema calcistico. Però in generale ho sempre pensato che lo studio potesse aiutarmi anche a capire quello che stavo facendo quindi studiare quello che io faccio quotidianamente quindi ho fatto scienze motorie perché a livello atletico fisico psicologico soprattutto ti dà delle basi importanti e tu dici caspita io sto facendo questa cosa qui ok quindi studio quello che io sto facendo poi adesso sto facendo il master marketing e management quindi comunque studi la parte poi anche di contorno quello che tu non vedi ma che in realtà gira intorno a te proprio per prepararti in un futuro però è la costruzione della persona a 360 gradi ci sono anche i giocatori che studiano giurisprudenza economia sono pochi però ci sono e quindi sì ragazzi dovete continuare a studiare anche se volete giocare a calcio perché è molto importante essere bravi un po' con tutto sì anche perché il calcio non è solo il pallone se ci pensate cioè il calcio non riguarda solo la palla la palla è quello che tutti vedono vedono 22 giocatori che giocano con la palla però poi intorno ci gira un mondo tutte le professioni possono essere ritrovate all'interno del calcio si parla dagli avvocati gli agenti marketing pubblicità comunicazione designer di magliette tutto quindi alla fine qualsiasi professione voi potete pensare nel calcio la ritrovate perché ormai è un un movimento molto più allargato e quindi muove tante persone pensate a quanto lavoro c'è all'interno dell'azienda calcio e quindi è importante anche che voi magari troviate il vostro ramo per per poi in un futuro magari poter rimanere all'interno c'è un'altra domanda è stato difficile arrivare ai tuoi livelli difficile il giusto ho fatto credo di aver fatto il percorso più giusto per me ho deciso a un certo punto ho deciso che per fare la calciatrice dovevo dovevo provare a fare qualcosa di più che rimanere in Italia e quindi sono andata all'estero quindi il mio percorso da calciatrice è iniziato effettivamente poi lì perché ho avuto la possibilità di confrontarmi con con un mondo professionistico che già lì era iniziato da qualche anno e poi le difficoltà sono quelle che trovi nel percorso quindi magari un infortunio piuttosto che la difficoltà di inserirsi in un contesto diverso ho cambiato quattro squadre mentre ero in Germania e la difficoltà più grande era sempre rimettersi in gioco e farsi conoscere dagli altri dalle proprie compagne inserendosi in un contesto diverso quindi è un po' la flessibilità no? cioè la capacità di farsi nuove amicizie tu ti trovi meglio è più facile per te nel momento in cui conosci le tue compagne di squadra da tanto tempo no? perché sai come giocano sai come si comportano caratterialmente magari sono anche tue amiche quindi ci esci a mangiare insieme è tutto molto diverso quando invece devi conoscere e approcciarti a qualcuno per la prima volta invece cambia tutto perché non sai mai chi hai di fronte e quindi hai bisogno di tempo e il tempo spesso nel calcio come nello sport non c'è quindi devi trovare il giusto compromesso ed è la cosa e poi questo cosa ti porta a crescere sempre una domanda da questo da questo lato che poverini non di là ok prima di cominciare a giocare a calcio tu pensavi di essere più adatta per altri sport o sapevi già che il calcio era la tua passione quando ero piccolo ho fatto nuoto ho fatto tennis amavo giocare a palla prigioniera a scuola ero bravissima infatti ero un po' portiere già lì se ci pensi hai mai giocato a palla prigioniera? sì quindi conosci sai le regole ecco quindi io ero quella che voleva rimanere sempre per ultima quella che bloccava tutti i palloni per poi lanciarli dall'altra parte e far liberare i miei compagni quindi le mie doti da portiere diciamo che sono iniziate lì sono iniziata a spuntare lì però però poi per il resto ho sempre amato fare tutti gli sport ho sempre ho fatto tanto ciclismo prima di prima di iniziare a giocare a calcio di scrivermi nella squadra facevo ciclismo quindi ho fatto nuoto tennis ciclismo probabilmente se non avessi fatto calcio avrei fatto tennis mi è sempre piaciuto molto l'ultima domanda l'ultima domanda per Laura vai qual è la la partita che va bene facciamo due non ti preoccupare adesso ti tolgo qual è la partita che per te è stata più importante l'esordio il mio esordio con la nazionale maggiore è stato contro la Spagna oltretutto è stato contro la Spagna in Italia era la mia prima partita ero una delle più giovani del gruppo e a un certo punto il giorno prima della partita il mister c'era Cabrini c'era Antonio Cabrini come CT della nazionale viene il suo secondo e mi fa Laura domani giochi tu panico panico ero talmente agitata che mi sono messa ad ascoltare per due giorni musica classica per calmarmi perché avevo un'ansia addosso che era pazzesca però però è stata una partita importante perché era una partita di qualificazione mondiali e soprattutto noi dovevamo pareggiare o comunque cioè dovevamo vincere o almeno comunque pareggiare per poter poi andare ai playoff perché l'andata l'avevano già persa quindi avevo una grande responsabilità giocavo in Italia era la mia prima partita e ho detto questa è la mia partita da dentro fuori quindi se va bene questa partita magari io ho messo un bel tassello per il futuro se va male Laura secondo me ti devi trovare qualcos'altro da fare invece devo dire che tutto è andato bene e quindi ho avuto questa fortuna ha dato bei risultati quella partita tutto tutto il lavoro che c'è dietro l'ultima domanda perché hai scelto come ruolo il portiere? mi ci hanno messa sì mi ci hanno messa non amavo correre prima di tutto poi ero essendo una ragazza all'interno di un gruppo di ragazzini ero molto più alta di loro perché mi ero sviluppata prima e loro non avevano il portiere io fuori facevo più danni della grandine quindi mi hanno detto dai va in porta me l'hanno detto con un tono così convincente che mi ero convinta anch'io capito? quindi no veramente iniziato così e poi effettivamente avevano visto che avevo delle qualità e quindi poi ci sono rimasta ho avuto un periodo un attimo in cui ho vacillato quando avevo sui 13 anni che non so perché mi era preso il trip della corsa e volevo fare l'esterno destro immaginati cioè da portiera al cavallo praticamente cioè dall'asino al cavallo cioè una roba una roba così era un giro affrittata poi mi hanno detta Laura forse è meglio se stai in porta ho detto va bene mi sono autoconvinta basta da lì non sono più uscita ci sono altre domande dai che siamo qui per voi oggi qual è stata la tua prima squadra e come si comportavano i tuoi compagni con te? la mia prima squadra è stata quella del mio paese l'SF 82 e giocavo con i miei compagni di scuola con i miei compagni di oratorio di catechismo non si comportavano benissimo sono sincera diciamo che quando quando vincevi era merito loro quando perdevi era colpa tua colpa mia quindi sono cresciuta un po' con sono cresciuta con con la sensazione o comunque con l'idea che dovessi dovessi pensare a fare bene il mio e basta cercando di isolarmi da quello che era il contesto quindi dico Laura tu stai facendo comunque qualcosa che ti piace stai facendo quello che poi è la tua passione e dall'altra parte giocare a calcio mi dava la possibilità con loro soprattutto mi dava la possibilità di sentirmi integrata nel gruppo perché io non volevo stare con le mie compagne con le ragazze io volevo stare con i miei compagni nonostante mi trattassero male io volevo giocare con loro perché volevo giocare con la palla e le mie compagne non giocavano con la palla giocavano con le barbie e io invece volevo giocare con loro quindi dicevo per stare con loro io ho bisogno di giocare a calcio perché il calcio è quello che unisce il gruppo quindi se io gioco a calcio con loro e sono brava anche se loro me ne dicono dietro poi mi fanno giocare con loro perché sono brava ti vogliono nella sua squadra capito? quindi la logica era questa ed è una logica importante quando poi tu cresci perché ti rendi conto che se è quello che fai tu che è importante non quello che ti dicono gli altri e quindi questa cosa mi ha da una parte a posteriori mi è servita adesso sì l'ultima lì in fondo ti sei mai fatta degli infortuni durante la tua storia del calcio? ti ho parlato? non l'avete ah eccoti sì 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 ho fatto ho avuto un infortunio un infortunio grave che è stato mi sono rotta il menisco al ginocchio vabbè il menisco ginocchio per favore sì mi sa che non ci sono altri però stavo pensando ginocchio sinistro mi sono sì mi sono fatta mi sono fatta questo infortunio qua quando ero in Germania l'ultimo anno a Friburgo e arrivava in un momento anche abbastanza delicato perché sarebbe stato sarebbero stati cinque mesi che poi mi accompagnavano all'europeo quindi nel 2017 era io ero portiere titolare della nazionale quindi ho detto ok infortunio al menisco da una parte dico va bene non è una cosa così grave il problema è che quando mi hanno operata io mi sono svegliata dall'operazione e mi hanno detto ti abbiamo messo cinque punti di sutura al menisco ah e cosa vuol dire vuol dire che hai cinque mesi minimo di riabilitazione ed era febbraio quindi febbraio febbraio marzo aprile maggio giugno a giugno noi eravamo già in preparazione per gli europei e quindi e lì mi sono detta non posso aspettare cinque mesi ho bisogno di di tornare prima di rientrare prima e la sutura di menisco te lo dico così lo sai non è molto simpatica più che altro perché hai tanto tempo all'inizio da aspettare mentre per il crociato inizi subito quindi cammini comunque puoi muovere il ginocchio col menisco stampella gamba stampella non ti muovi per almeno sei settimane e per una ragazza che comunque ha una massa muscolare importante perdere cinque centimetri di diametro della gamba della coscia in due settimane è tantissimo e quindi ho iniziato una volta che poi sono finite le sei settimane ho iniziato a fare una riabilitazione di otto ore al giorno circa in cui sono riuscita che mi ha portata poi fortunatamente ad arrivare a giugno che ero in piena forma per l'inizio della preparazione sei tostissima sei proprio tosta è quando ti metti in testa qualcosa quella è la parte più importante alla fine è la parte mentale è stato un piacere grazie mille grazie a tutti voi per tutte le vostre domande mi dispiace quelli che non siete riusciti a fare le domande però il tempo è quello che grazie ciao ragazze grazie